1987, Maurizio Scioglieri, la scritta Maurizio Scioglieri. Grazie a tutti! Quanta gente convinta che ci sia nella vita qualche cosa chissà Quanta gente comunque ci sarà che si accortereà Grazie per questa suonata sopra il bancone da Osteria Un'osteria rocchettara quale il piano B Thank you! Ciao! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.